Ma come glielo dico a papà che me ne voglio andare, c'è pure il compleanno di Miki! Maestro, c'è un problema tecnico, dobbiamo dare stop. Stop? Stop! Problema tecnico! Massimo, ma te non facevi il teatro quello serio? Ho fatto Ronconi, ho fatto Sorrentino e mi ho fatto i sordi. René, la grande narrativa popolare è il futuro di Bocacà. Struppato a compirsi? Eh? Pumpa! Ma di Pumpa! Massimo!